ah ragazzi ho trovato questo gioco in giro per youtube e secondo me molto molto bellino infatti ora lo giocheremo sentiamo questo allora praticamente fanno una diversa musica questo è incredibox sprunky sprunky incredibox è veramente caruccio come giochetto soprattutto perché fanno tutte queste musica grande wow ma lui è un grande poi lui che il suono fa ok fa la batteria e caspita questo è un beat incredibile ragazzi ma che grande wow e il fiore cosa fa il fiore il fiore il fiore fai fiora fiora un po se gli stiamo prendendo tutti quanti in ordine ok mi piace tipo una maracas bellissimo e lui cosa fa oh oh quindi fa tipo ok e lui ha un secchio in testa fa ridere bellissimo e allora mettiamo lui qua no si può faccio così ma è un sole è un salone ah che bello questo è felice questo mi sembra solar ragazzi no sono un pochino inquietanti devo dire perché mi ricorda un solar questo è un diavoletto però è simpatico circa non suona oh è una trombetta no ma che bello avete visto sono bravissimo ma se faccio così ah si stoppano tutti si può sentire solo questo yeah wow ma che grandi guanti insieme sono molto forti questo è alberum e da solo infatti fa un suono molto inquietante però insieme molto bello togliamo questo mettiamo questo ma che belli insieme suonano anche meglio secondo me sono felice tanto 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 di stare qui e questo che fa? cappellino uh son tanto felice si tanto ma tanto felice di star qui yuppi che bello sono qui insieme ai miei amici è nuovo uhu e lui dice vorresti avere un po' di divertimento? andiamo abbiamo un po' di tempo divertente? si e beh vorresti avere un po' di fan uhu e lui che fa? era lui? si eh 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 ho stoppato tutto quanto ma che dice esattamente? allora dice ciao beh a meno che non scrive è difficile da capire in realtà però insieme da suonano veramente benissimo che belli dai ragazzi mi piace troppo tagliamoli tutti però ok adesso manca questo bello beh non fa molto in realtà oddio ragazzi questo è un po' inquietante però insieme si sposano bene tu 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 che succede? porca di quella puzzona ma che cacchio è? lo sapevo che non potevo fidarmi di voi cosa siete? ma che ma mi è successo il gioco? mi si è andato sul cesso proprio ragazzi ma che diavolo è successo? e non suonano più? ah ho capito lui fa tipo il cuore tu 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 ma non è questa la cosa importante il fatto che ci sono degli occhi nelle nuvole che ci stanno guardando lui che è diventato brutto ho capito quindi questa è tipo la mod maledetta una roba del genere di incredibox però è bello adesso so che può sembrare psicopatico però stanno bene insieme i suoni tu tu oh che bello adesso faccio un beat tutti uguali non so fare le rime ragazzi mi spiace eh però suonano bene e poi questo che fa adesso? dobbiamo provarli tutti ormai però sarebbe da capire il mistero dietro questa cosa perché non è che è uscito fuori a caso questo giochetto cacchiorono no che bello ok allora mettiamo questo qua ma che diavolo sto vedendo ma cos'è questa è una lumacca maledetta e lui che fa? sta guardando belli però i suoni sono belli ragazzi eh i suoni mi piacciono molto individualmente poi dopo in realtà insieme fanno un suono veramente mostruoso madonna mia che brutto no no così troppo inquietante che bello cioè so che posso sembrare pazzo però cioè suonano bene no tu 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 ma che bello e se mettessi tipo lui lui si può smettere ok lui si può fare smettere ok insieme con me suonano questi beh beh ci stanno no questo va a cagare questo eh dai circa questo che fa oh è un occhio questo era tipo quello occhio come si chiamava ma che belli insieme andiamo via questo andiamo via questo ma che bello mi piacciono un sacco questi beat ragazzi questi suoni insieme stanno bene secondo me forse lui è un po' una rotola di palle eh sì ma che no così stanno benissimo insieme e questo che fa ah oh mio dio ma no ma questo è super drammatico bello sì che bello ok è tipo eh qual è che era tipo questo no non mi ricordo più questo cosa fa ok lui fischia bellissimo dai insieme stanno benissimo io continuo a vedere sta roba qua che è veramente inquietante ragazzi secondo me questo qua ha qualcosa in mente sicuramente vuole uccidermi vuole uccidermi mi sta guardando attraverso lo schermo mmm sus molto strano oddio no lui è veramente inquietante ragazzi lui non ti puoi nascondere non sei al sicuro scappa 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 vai via scappa vai vai qualcosa c'è è di sbagliato loro sono tutti morti loro sono non sono reali e loro ti stanno vedendo a oddio scappa 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 loro sono tutti morti no 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 guardate che brutti poi quando non suona non suonano sono suonate no vabbè quindi loro sono tutti morti è questo che mi stai dicendo e e non sei al sicuro perché loro sono tutti morti quindi in realtà non sono tuoi amici vabbè me ne ero accorto dagli occhi che ci sono sul cielo in realtà e dalle loro facce ormai morte grazie di di dirmi l'ovvietà signor computer però effettivamente ci sto dicendo un mistero ragazzi questo qua e vedete sicuramente se vedo questo qua non mi sento al sicuro però suona bene ok però se tolgo questo rimane sempre così ottimo se metto questo porca di quella vacca che fa questo ok quindi fa solo tipo una musica angelica ma che bello perché cioè perché mi piace così tanto questa cosa secondo voi sono pazzo e poi questo che fa oh madonna mia questo fa proprio una musica inquietante ragazzi abbiamo fatto una musica incredibile un'arte questa qua è incredibilmente bella nonostante ci siano questi qua che mi stanno guardando che non siamo al sicuro come aveva detto il computer quindi non si può far ritornare alla normalità a meno che non faccio tipo così lasciamo perdere non voglio più fare non si può tornare alla normalità ragazzi ok questa è la nuova mod ragazzi si chiama incredibox abgerni questo che fa allora questo è sempre una musichetta e ci sono tipo tutti questi tizi sempre un po' come sprunchi che fanno queste cose qua l'unica cosa ragazzi è che io non mi fiderei mai perché questo qua è un proprio sprunchi c'è un insulto ormai sprunchi è anche abgerni ormai no vabbè però belli oh uhuu grande yeah che bello questo che fa un ape ok ok vedete però già sono strani già che ti guardano strano ormai io non mi fido più all'inizio all'inizio di quei tizi là già non mi fidavo perché comunque erano strani i tizi di sprunchi ma questi nuovi di abgeri di abgeri vabbè non riuscirò mai a dirlo correttamente però sono sicuro che fa che sono super inquietanti e cattivi che fa questo ahah boh non fa niente oh oh spacca ok oh questo spacca eh per questo che fa è tipo una rana che cos'è questo ma sono tutti quanti abbastanza simili ma in realtà sono animali diversi questo è un ape ma questo che fa vabbè è un po' inutile non si sente nemmeno in realtà poi questo che fa è un orsetto mh orco 2 mh mh è già inquietante ragazzi e poi questo che fa allora prima ovviamente giochiamo tutti quelli safe tutti quelli normali aha ok bello cioè questo eh fa è tipo una trombetta cos'è tipo una sinfonia non saprei però insieme stanno bene ok allora facciamo così continuiamo e poi dopo sicuramente questi ultimi saranno quelli maledetti e quindi dobbiamo cambiarli allora questo direi di lasciarlo perché su me è bello perché poi dopo quando ad una certa arrivano quelli carini e poi infatti eh vedete insieme ci stanno bene secondo me cioè questi qua saranno rompere un po' il cacchio per dirla così bellissimi però troppo belli sti beat per questo che va bellissimo dai no troppo bello secondo me lui tipo diventa cosa che diventerà quando sarà maledetto lui diventa tipo ehm un lumacone con il sangue che gli esce dagli occhi immagino non lo so questo cos'è tipo una pianta cos'è allora lui sicuramente diventerà una cosa che uccide tutti non saprei dirlo ma lui non fa nessun rumore che fa em em già è inquietante di suo ragazzi questo però vorrei capirlo ah beh dai ci sta bene insieme in realtà poi questo che fa niente lui ci guarda solo bellissimo e se mettessi questi oh yeah oh yeah e questo secondo me rompe il cacchio togliamolo questo è un koala bellissimo grandi ragazzi stiamo facendo le musiche migliori del mondo solo con questa mod io me l'ascolterei tutto il giorno se una base fosse così tipo e ci fossero tipo le musiche ehi io sono qui che ascolto e ballo tutto il giorno non fa così no la voce che canta però bellissimo e poi questo che fa niente ma lui è già inquietante di suo comunque vabbè che poi tutti in realtà però sono tutti felici sono molto felice yuppie che bello fan così in realtà adesso che bello poi questo è bellissimo che bello quanto è leggiato almeno a me piace poi non so in realtà i vostri gusti musicali e poi questo che fa è un fiore ecco lui sicuramente sarà un occhio strano molto inquietato sanguinoso bellissimo bellissimo che poi mi ricordano le musiche di adventure time perché è un po' le note me le ricordano secondo me cioè no le note però tipo proprio gli strumenti ma questo che fa una capra con un cosorotto bello ok allora stiamo arrivando agli ultimi in realtà quindi questo che fa bello e poi questa ormai sono impaziente ragazzi questo è un orso e allora devi mettere questo come ultimo è andato via il pulsante ragazzi allora qual è il nome di di Wurs dell'amico immaginario di Wurs ma che cacchio ne so ragazzi che domanda è e e monster non lo so non è quello ci dice ma chi è Wurs scusatemi perché ci dice di cercare caratteri info ah ok 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 praticamente bisogna andare qua allora Wurs lui è Peter poi lui è Carl Z Marvin Frank Paul Ethan Birdo Sean Ami Wur eccolo qua allora Wur colore preferito ok li ho tolti tutti quanti allora lei l'amico immaginario in realtà è William eh eh l'ho indovinato giusto mh e beh met ah ragazzi e questo è William è tutta colpa sua mio dio che brutto dice non riesco a leggere resta infinito e c'è qualcosa fuori tipo il mondo fuori è un è un posto molto pericoloso si 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 dice questo il posto fuori il mondo fuori è un posto proprio pericoloso questo è un albero che è bello però giù giù vado ragazzi che inquietante che è mio dio cosa che fa bro che fai tu ah ok ci sta guardate sono tutti maledetti completamente cosa che fa ha un ha tipo una cosa da api in testa ragazzi ok bello ci stanno bene insieme come al solito ma che bello i beat sono bellissimi però secondo me ok togliamoli tutti quanti si insieme devo dire che ci stanno veramente benissimo allora c'era questo em 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 oh mio dio che brutti comunque non sono per niente identici a quelli che avevo pensato all'inizio ragazzi cioè si sono proprio trasformati ancora peggio di sprunchi secondo me no è tutto rosso poi che fa questo e beh bello non si capisce nemmeno e poi questo che fa ha gli occhi tutti ipnotizzati avete visto sarà stato ipnotizzato da quella pazza di di vur può essere secondo voi che secondo me qualcosa e dice voglio andare dietro cioè indietro e dici vuoi ritornare però non si può fare ragazzi cioè che devo dire e poi cosa fa cosa fa questo cioè delle cose negli occhi brutta come cosa allora in realtà questi beat non mi piacciono già più ci sono veramente inquietanti mi stanno disturbando molto devo dire ragazzi cioè mi stanno inquietando un po' danno proprio fastidio ok tagliamo gli occhi guanti perché mi sto tipo mezzo un po' inquietando tanto in realtà quindi questo che fa gli ultimi proviamo questo è un fiore bello questo è bellissimo 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 questo ragazzi wow grandi in realtà ora mi piace solo che secondo me sono queste scritte che mi stanno inquietando moltissimo e mi stanno anche facendo venire mezzo da vomitare non è vero ovviamente però wow wow grandi bellissimi questi giochi no ragazzi questo no questo beat è bellissimo mi sta piacendo un sacco mi sta emozionando un botto eh tantissimo grandi e a voi stanno piacendo questi giochi pazzurdi pazzesconi perché a me un sacco io all'inizio pensavo fosse un gioco divertente simpatico e invece l'unica cosa che ho trovato è che questo è un gioco completamente maledetto ragazzi completamente maledetto e con questa musica io vi posso salutare lasciate like al prossimo video ciao